A bordo della città di Palermo, le loro altezze reali, i principi di Piemonte, sono giunti a Cagliari, la cui popolazione offre loro il primo entusiastico saluto del fedelissimo popolo sardo. Formatosi il corteo delle automobili, Umberto e Maria di Savoia passano tra tittissime ali di popolo festante, contenuto a stento nel suo entusiasmo dai cordoni delle forze armate. Raggiunto il palazzo del governo, i principi sono costretti ad affacciarsi ripetutamente al balcone, invocati da un colto ammassamento dei gruppi rionali, che inneggiano ripetutamente e agli ospiti, tra alte grida al re imperatore Alduce. Le manifestazioni si rinnovano con lo stesso fervore nel giardino della bellissima capitale isolana, dove un colto gruppo di massaie rurali, indossanti i loro preziosi e pittoreschi costumi, rivolgono alla coppia Augusta l'omaggio gentile delle donne di Sardegna, richiamandola al balcone della palazzina d'arte comunale, dove i principi hanno inaugurato la mostra sindacale degli artisti aludio da un impiegato... Grazie.